Ciao, sono Zoschua e sono con... Edoardo Cardinali Maria Mattia Francesco Il quinto anno di architettura E quindi il laboratorio di laurea, qual è? Laboratorio di laurea di architettura sostenibile Progetto Stare e Restauro Progetto Urbano L'architettura per l'archeologia Sono passati quindi cinque anni di architettura, come sono stati? Beh, sono stati sicuramente cinque anni molto impegnativi, ma allo stesso tempo che hanno portato anche tante soddisfazioni Sì, molto belli, interessanti Molto costruttivi L'ultimo periodo, no scherzo Consiglio vivamente, molto bello Sono volati Tornassi indietro, rifarei altre cento volte Cosa consiglieresti al studente del primo anno di inserire nella loro cassetta degli attresti del buon studente? Ma sicuramente gli consiglierei di armarsi di tanta pazienza, di tanta voglia di fare Tanta tanta forza di volontà e curiosità soprattutto In tutto ho tanti caffè, se non altro E poi vabbè, molta curiosità, tanta voglia di imparare Comunque anche di superare i propri limiti e di mettersi in gioco Una squadra 45 e una 30-60, una matita, una gomma, una penna e un tappino Perfetto, grazie mille Con voi